Bibite. Le cosiddette bibite sono bevande che possono essere gassate o non gassate, cioè preparate con acqua potabile o acqua minerale e che possono contenere, non so, succhi di frutta, infusi, oppure parte di piante commestibili, aromatizzanti, essenze naturali, saccarosio, possono contenere acido citrico, acido tartarico. Le bibite frizzanti hanno una presenza ben significativa di anidride carbonica, le cui bollicine danno il senso e il gusto dissetante e rinfrescante, ma non sono proprio una mano santa, come si suol dire. A secondo del prodotto possono essere aggiunte altre sostanze, tra cui aromi vegetali, antiossidanti, conservanti e coloranti, e qui entriamo nella chimica alimentare. Tra le bibite a base di frutte le più acquistate sono, e lo sapete bene, le aranciate, il cui riferimento però all'arancia vera e propria è del tutto formale, se non addirittura causale, visto che in esse al massimo il contenuto di succo di arancia è del 12%. Il restante 88% è acqua zuccherata, aromatizzanti, coloranti, eccetera. Per sostituire lo zucchero può essere impiegato l'aspartame, ma è obbligatorio scriverlo in etichetta. A tale proposito, la prima sostanza che compare nell'elenco degli ingredienti è perciò quella contenuta in maggiore quantità e quindi è l'acqua. Al secondo agosto viene lo zucchero, compaiono poi di seguito gli estratti vegetali, l'aromatizzazione con tutte le sue sostanze, i coloranti, i conservanti, gli agificanti. Insomma, le bibite sembrano essere proprio un reagentario chimico. La vivace colorazione delle bibite è un motivo di grande richiamo per i bambini, potete immaginare, per cui il consumo, credetemi, andrebbe controllato e limitato. Le tonalità sgargianti di queste bevande sono infatti ottenute con l'aggiunta di coloranti sintetici che alla lunga possono essere dannosi alla salute. Inoltre, in alcune bibite può essere presente caffeina e a maggior ragione quindi va limitata l'assunzione da parte dei bambini.